Lei ha scritto una lettera a Tremonti, parla di riforma del fisco, qual è il primo punto all'ordine del giorno? Intanto discuterne, perché c'è assolutamente bisogno di riforma fiscale, non credo che questo governo sia in condizione di farla, ma noi abbiamo una proposta per alleggerire lavori, imprese, caricare su evasione e su rendita e vogliamo discuterne in Parlamento, perché per una riforma fiscale non si possono aspettare calende greche. Casini dice mai con questo PD che scende in piazza, a lei cosa risponde? Ma io adesso non so cosa pensi precisamente Casini, non so una cosa sola, che senza il progetto del PD, senza le donne e gli uomini del PD, senza i numeri del PD, l'alternativa Berlusconi non si fa, quindi ognuno si prenderà le sue responsabilità. Un tema è che ci possa essere una sorta di campagna acquisti da parte di Casini verso alcuni uomini del PD, per esempio lui parla di Enrico Aletta, no? E' meglio, sarà più facile prendere Messi. E' così grave per un partito di centrosinistra scendere in piazza? Assolutamente no, abbiamo le nostre manifestazioni, abbiamo fatto una grandissima a Torino. Adesso faremo un porta a porta a novembre in tre weekend e incontreremo milioni di persone. E' un partito che ha la testa e anche le gambe per camminare.